E' stato annullato il consiglio regionale che era previsto questa mattina e sono destinati a saltare diversi appuntamenti istituzionali dei prossimi giorni che saranno ricalibrati da remoto. Dal pomeriggio di ieri l'assessore regionale al bilancio Guido Castelli ha infatti risultato positivo al covid-19 e la notizia ha portato all'auto isolamento volontario l'intera giunta. Dal presidente Acquaroli agli assessori Carloni, Baldelli, Saltamartini, Aguzzi e Giorgia Latini l'intera squadra di governo regionale è in quarantena. La notizia era arrivata nel primo pomeriggio di ieri col tampone effettuato in seguito a un raffreddore e la positività emersa nonostante Castelli sia vaccinato. La stessa giunta in queste ore ha ricordato come l'incidente di percorso rappresenti un monito alla cittadinanza a insistere sulle terze dosi di vaccino. Un tampone positivo non fa però solo saltare il Consiglio regionale ma anche diversi impegni istituzionali, compresa la visita nelle marche del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati prevista per giovedì. Presidente del Senato che era anche attesa a Urbino venerdì a commemorare il ventennale della scomparsa di Carlo Vuò, altro evento annullato. La giunta è però al lavoro da remoto anche attraverso diversi post su Facebook, fra questi quello del governatore Acquaroli che è intervenuto oggi per ribadire come siano ancora remoti i rischi di un passaggio in zona gialla delle Marche nonostante continui a salire l'incidenza da contagio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.